Siamo nello stand di PFM, Alipakima, noi produciamo macchine confezionatrici ed imballaggio in generale, sistemi automatici di imballo, sia di macchine orizzontali che macchine verticali, from fin seal, da 50 anni. I settori mercedodici più importanti sono chiaramente il food e anche il farmaceutico. Nel food siamo specializzati un po' in tutti i settori, quindi dalla parte confectionery, biscuits, ortofrutta, dairy, quindi tutti i formaggi, sia porzionati che shredded, cubettati, poi le carni e quant'altro che è necessario fare come imballo flessibile. Queste sono macchine confezionatrici tipo il flow pack, quindi si parte da film di incarto di bobina, di film di incarto steso, dal quale poi si ottiene la confezione finale. Nello specifico stiamo guardando la macchina confezionatrice Shiroko Kombi, è una macchina adatta al confezionamento, in questo caso di prodotti porzionati di formaggio, ha la caratteristica principale di poter fare fino a quattro tipi di confezioni diverse, quindi la pillow pack classica e anche la confezione che noi chiamiamo 3 side seal, che significa 3 saldature, e può avere un sistema di recloseable bag, cioè confezione richiudibile, con zip oppure altri sistemi di richiusura, quindi etichette oppure velcro oppure quant'altro. Questo tipo di confezionatrice, dal punto di vista dell'automazione, abbiamo utilizzato non solo in questa ma in molte altre, l'architettura completa Rockwell, quindi con il control logics, i driver, i motori e anche l'elettromeccanica completamente Rockwell, compreso anche il sistema HMI di interfaccia con l'operatore. Rockwell chiaramente è un'azienda con la quale collaboriamo da parecchi anni e ha il grosso vantaggio di essere presente in tutto il mondo e di essere una delle aziende preferite dei grandi gruppi, grandi gruppi internazionali. Questo è uno dei motivi collegati anche al motivo tecnico per i quali abbiamo deciso di utilizzare la piattaforma Rockwell, sostanzialmente per una buona parte della nostra produzione e di questa macchina in particolare. Grazie a tutti!